campo basso facciamo lo sci di fondo siamo venuti da capracotta per insegnare ai campobassani come si scia ecco qui qua siamo proprio sotto il municipio con la velletta come la chiamano di campo basso vai prima lezione prima lezione questo è lo sci di fondo facciamo il passo alternato è questo qui e questo passo alternato il nostro dottor paione ci ha illustrato le prime due lezioni del nostro sci di fondo eccoci qui